Buongiorno ai nostri associati, cominciamo oggi questi incontri in vista delle prossime elezioni regionali. I manageri di oggi e di domani incontrano i candidati alle presidenziali della regione Liguria. Oggi abbiamo invitato il professore Aristi Massardo, buongiorno e che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Come abbiamo detto il nostro format sarà un format che prevede tre domande fatte dai nostri manager di oggi, quindi manager in attività, e tre domande da quelli che immaginiamo saranno i manager del futuro, quindi ragazzi che hanno partecipato alle nostre iniziative e che in questo modo mettiamo in contatto direttamente con la politica per portare direttamente le loro istanze. Partiamo con la prima domanda. Le misure dotate per contenere l'emergenza Covid hanno messo sotto stress le aziende. È emerso che le imprese dotate di maggior cultura manageriale abbiano saputo meglio reagire riorientando il business e l'organizzazione. In Liguria le imprese hanno un tasso di managerialità molto basso. Abbiamo 0,8 manager ogni 100 dipendenti nelle aziende private contro un rapporto di 1,6 in Lombardia e 1,4 nel Lazio. Lei ritiene che la crescita del nostro territorio, il consolidamento del nostro struttura produttiva, possa passare anche per l'introduzione di maggior managerialità nelle aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni? E se sì, quali misure intende adottare per favorire questo sviluppo? Mi sembra abbastanza evidente la necessità di avere una forte managerialità nelle aziende. D'altronde le strutture aziendali della Lombardia e della Liguria sono fortemente differenti. In Lombardia l'area della Brianza ad esempio ha molte medie imprese che hanno una managerialità molto forte lavorando specialmente per l'estero. La Liguria è una situazione molto diversa, abbiamo grandi aziende dove la situazione è molto diversificata sulla base nazionale, ad esempio hanno direzioni al centro a Roma, prendiamo Leonardo ad esempio, prendiamo ABB che qui è una divisione eccetera eccetera. Peraltro dall'altra parte ci sono le piccole imprese che fanno fatica ad avere managerialità esterna perché spesso sono imprese in house dei stessi proprietari. Quindi c'è una necessità di sostituire le precedenti figure familiari con figure di manager che siano in grado di dare quelle novità e spingere verso la digitalizzazione, l'industria 4.0 e così via. Cioè innovare anche nella gestione dell'azienda è fondamentale, creare dei manager che conoscono esattamente quello che accade intorno per il mondo. Non possiamo pensare di chiuderci semplicemente in Liguria ma dobbiamo vedere che cosa fanno nelle altre parti. Quindi il rapporto con l'estero, il rapporto con la comunità europea, il rapporto con le aziende internazionali diventa fondamentale e per tenere questo bisogna che ci siano dei manager che hanno capacità di relazione, soprattutto di networking e questo per noi è fondamentale. Quindi credo che noi dovremo realizzare un sistema di formazione manageriale a livello post-universitario, oltre che universitario, che sia in grado di introdurre tutte queste capacità internazionali, capacità di relazione, capacità di conoscenza delle competenze che consentano ai nostri giovani manager di diventare manager del futuro e di dare anche quella parte di innovazione nelle capacità di trovare soluzioni ai problemi come il Covid che non sono previsti nella formazione ma che devono essere, come posso dire, interpretati e adattati in maniera corretta. Buongiorno, sono Tommaso, ho 20 anni e frequento il terzo anno di Economia Maritima. La mia domanda riguarda i cosiddetti cervelli in fuga, in questo caso Liguri, ovvero tutti quei giovani che decidono di trasferirsi in altre grandi città italiane o all'estero. Quindi su quali settori sarà necessario investire affinché questi decidano di rimanere all'interno della nostra regione? Il tema della fuga dei cervelli è un tema a livello nazionale, non è soltanto un tema delle Ligure. Ligure ha alcune accentuazioni legate al fatto che la nostra struttura industriale o produttiva o del sistema sociale ha avuto diverse difficoltà negli ultimi anni e con dei cambiamenti anche radicali. Io personalmente non vedo un problema il fatto che i giovani vadano all'estero o vadano fuori per studiare, per lavorare. Quello che è importante è che noi possiamo offrire loro un'opportunità di ritorno. Questo è per me imprescindibile perché andare fuori, andare all'estero, ad esempio sono un ingegnere, ho preparato moltissimi ingegneri laureati che sono in giro per il mondo, alcuni di loro sono riusciti a rientrare. Quando rientrano portano all'interno di un sistema che spesso è autoreferenziale, spesso rimane un po' chiuso fra il mare e gli appennini, portano delle competenze, delle conoscenze che ci consentono di fare dei salti in avanti, di creare delle nuove opportunità. Quindi io credo fondamentalmente che questo sia un punto fondamentale che noi dobbiamo mettere in considerazione. L'altro aspetto molto interessante è che noi siamo difficilmente attrattivi non solo per i nostri giovani ma per i giovani degli altri paesi. Se si va in Germania, molto spesso, io sono stato a lavorare ad esempio a Düsseldorf, c'era un solo tedesco e altri dieci persone che lavoravano nel gruppo di ricerca in cui ero inserito, erano di tutte le parti del mondo. Questa difficoltà che noi abbiamo nell'attrare cervelli da fuori è estremamente delicata, in questa regione riesce solo a farlo l'IT perché ha una struttura organizzativa molto libera che gli consente di acquisire le persone con grande facilità. Ad esempio nell'università è più difficile, negli altri centri di ricerca è lo stesso perché siamo soggetti a limiti molto forti. Le aziende dovrebbero forse tentare di attrarre con una capacità anche economica le persone da fuori perché queste sicuramente danno una forte rilevanza allo sviluppo. Che cosa possiamo fare? Beh, certamente possiamo rendere le nostre iniziative più innovative e quindi possiamo fare in modo tale che i giovani stessi diventano i loro, come posso dire, le loro stesse capacità imprenditoriali di realizzare start-up, spin-off e cose di questo genere. Cioè noi dobbiamo investire nell'innovazione per fare nuova impresa e questa nuova impresa deve essere gestita e abbiamo bisogno di creare dei manager perché spesso il bravo ricercatore, il bravo inventore non è un manager. Quindi dobbiamo trovare un modo per mettere insieme quelli che hanno delle idee da quelli che poi sanno che cos'è il mercato, come si gestisce la produzione, come si fa il prodotto. E credo che sia fondamentale per la nostra regione per uscire da un impasse che ci sta un po' fermando in questi ultimi anni. Buongiorno, mi chiamo Benedetta, ho 22 anni e frequento il secondo anno di laurea specialistica in marketing. Si sente spesso parlare di un turismo sostenibile e valorizzante. Oggi in Ligure ci troviamo davanti a grandi concentrazioni turistiche, soprattutto in alcune zone come le Cinque Terre o Portofino, mentre altre località altrettanto belle, per esempio nell'entroterra, soffrono per la mancanza di prospettive di sviluppo. Qualora lei fosse eletto, come intenderebbe valorizzare l'intero patrimonio regionale? Il problema del turismo è un problema molto delicato perché la Liguria è una terra meravigliosa dove il turismo è stato spesso considerato unicamente il territorio lungo la costa. Noi abbiamo altre due possibilità molto interessanti. Uno è il turismo culturale e quindi è molto importante investire in questa direzione. Ci sono studi internazionali che dimostrano come oggi le persone non vogliono soltanto andare al mare, non vogliono soltanto andare in montagna, ma vogliono possibilmente trovare vicino al posto dove vanno delle occasioni di poter visitare centri storici, musei e così via. E questo credo che noi abbiamo la possibilità di lavorarci molto attraverso una diversa anche, diciamo come posso dire, rappresentazione della nostra regione verso l'esterno. È inutile fare le pubblicità per la nostra regione in Liguria, non serve a nulla. Bisogna andare a farle fuori, bisogna andare all'estero, bisogna andare alle grandi fiere, bisogna digitalizzare le nostre offerte turistiche in questo senso. Quindi ad esempio inserire tutti i circuiti dei rolli a Genova, ma anche in altre città, tutte le opere diciamo d'arte che questa regione è ricca, è molto importante per portare a trarre ulteriore turismo di un livello più alto rispetto al turismo puramente a fine settimana che intasa le nostre autostrade. Dall'altra parte sul discorso dell'entroterra, è un discorso molto importante perché se noi riusciamo a metterci in collaborazione e in connessione con il Basso Piemonte che sta realizzando e progettando tutta una serie di strade, di sentieri nuovi che possono collegare da Cuneo sino al confine con l'Emilia Romagna e quindi alle nostre spalle, possiamo mettere a contatto tutta la parte dell'imperiese, così come la parte diciamo di Spezia e così via, questo diventa estremamente importante. L'entroterra deve essere sostanzialmente collegato alle sue caratteristiche di possibilità di trekking, possibilità di viaggiare in bicicletta e così via, ma anche dal punto di vista dell'agroalimentare, noi abbiamo un agroalimentare molto interessante con diverse caratteristiche nelle varie vallate e questo è poco diffuso verso l'esterno, anche se in alcune aree c'è una conoscenza e una presenza di turisti stranieri molto forte. Dobbiamo semplicemente insistere in questa capacità e fare sostanzialmente una proiezione un pochino più a lungo termine, non bastano le iniziative casuali fatte brevemente per poco tempo. Le infrastrutture sono un nodo cruciale per poter parlare di crescita e sviluppo del nostro territorio. Quali sono le opere infrastrutturali che lei si impegna a realizzare durante il suo mandato? Il tema delle infrastrutture è un tema critico per questa regione, c'è chi dice che siamo la regione più isolata d'Italia, anche peggio di Sicilia e Sardegna. Ora, da questo punto di vista noi non siamo un'isola ma spesso lo siamo stati. L'inizio di questa mia avventura nasce subito dopo la frana sull'A6 nella quale io mi trovavo in autostrade e ho pensato effettivamente che la situazione fosse critica. La prima delle infrastrutture che bisogna realizzare è la manutenzione delle infrastrutture esistenti. Abbiamo visto che la mancata manutenzione ha portato probabilmente al crollo del Ponte Morandi, abbiamo avuto tutti i problemi delle gallerie, abbiamo avuto i problemi degli altri viadotti. Perché queste cose? Perché non è stata fatta quella che viene fatta normalmente da tutti i manager che gestiscono un'attività industriale, la manutenzione delle strutture, la manutenzione dei macchinari. Io mi occupo di motori d'aereo, i motori d'aereo non fanno la manutenzione, noi rischiamo la vita anche più di quanto lo rischiamo normalmente in autostrada. È chiaro che questo è un punto fondamentale. Le infrastrutture esistenti devono essere fatte e manutenute come si deve. Secondo punto, ci sono una quantità di infrastrutture che sono state pensate da 40 a 50 anni fa o a 30 anni fa che sono sempre ferme. Non parlo della Gronda, ma posso parlare dell'Aurelia Bisse. L'Aurelia Bisse è un problema che abbiamo a Spezia, Savona, Imperia. Ovunque abbiamo tratti che sono interrotti per quale motivo non è ancora capito. Allora da questo punto di vista bisogna prendere la decisione, fare dei piani operativi e completare tutte queste opere. Non parlo del raddoppio ferroviario che è stato fatto a Biennale Unico 150 anni fa, nel 1871. Parlo della Pontremolese di cui sento dire da quando ero studente e così via. Ci sono il futuro della Fontana Buona, basta semplicemente pensare. È chiaro che abbiamo anche alcune di queste opere che sono state inserite nelle attività più importanti da parte del governo. Prendiamo la nuova grande diga forana del porto di Genova che è un elemento estremamente importante per dare un futuro. Quello che conta nelle infrastrutture è un pensiero unico delle infrastrutture. Non si possono fare pezzettini di infrastrutture. Va fatto uno studio generale di quello che serve a questa regione e le infrastrutture non sono soltanto quelle fisiche, intese i ponti, le autostrade, le strade, ma sono soprattutto in questo momento anche le infrastrutture digitali. Quindi abbiamo bisogno della banda larga in tutta la regione per poter far sì che l'introterra di cui parlavamo precedentemente possa avere, offrire delle opportunità anche per chi fa smart working o per lavori nuovi in questo modo. Mi chiamo Cecilia, ho 18 anni e a settembre intraprenderò il corso di laurea di scienze tecniche e psicologiche. Essendo il mio primo anno da votante, la mia domanda è perché il mio voto è così importante e in che modo la politica regionale influisce su quella nazionale? Beh, dire perché è importante andare a votare mi sembra quasi plonastico. Noi siamo cittadini, chi lascia agli altri le decisioni della scelta politica poi le subisce comunque, quindi non andare a votare secondo me è un errore. Se sei un giovane devi andare a votare e devi informarti su chi vai a votare, non devi andare a votare semplicemente perché lo devi fare, ma devi entrare nelle conoscenze, nelle competenze delle persone che si propongono, sia i candidati presidenti che i singoli candidati, perché ricordiamo che esistono due preferenze, una per ogni genere, quindi questa volta abbiamo anche questa differenza. Io credo che sia fondamentale perché il diritto di votare lo abbiamo acquisito alla fine di un lungo percorso molto doloroso che è durato nella seconda guerra mondiale, ma prima già durante il ventennio fascista, quindi il voto, stiamo seguendo quello che succede in Bielorussia, noi abbiamo ancora una democrazia basata su un Parlamento, basata su un governo eletto regolarmente dai cittadini, questo è molto importante per me, quindi i giovani devono considerare che questo è un loro diritto, ma è anche un dovere andare a votare. Per quanto mi riguarda, credo che quello che può fare la Regione, lo avete visto, la Regione non ha fatto molte cose, è stata assente sulle infrastrutture, è stata assente sulla sanità, la sanità è fondamentale, la Regione spende i tre quarti del suo bilancio sulla sanità, avete visto quali sono le problematiche di relazione con il Governo centrale sulle gestioni dell'emergenza Covid, quindi va fatta chiarezza su quali sono i compiti delle Regioni, quali sono i compiti dello Stato e quali sono le attività concorrenti, perché questo è molto importante per la sicurezza e per la garanzia di vita dei cittadini. Noi abbiamo bisogno che la Regione sia forte, che abbia una visione e che possa andare a parlare col Governo dicendo quali sono le cose che vuole fare per i Liguri, non facendosi dettare l'agenda da altre Regioni come sulla sanità della Lombardia, ovvero da un Governo che ovviamente vede la Liguria che ha solo un milione e mezzo di abitanti come una Regione periferica rispetto ad altre dove ci sono molte più persone, dove ci sono molti più interessi, dove ci sono molti più finanziamenti. Ci racconti in due minuti qual è la sua visione della Liguria e qual è la Regione che si impegna a lasciare al termine del suo mandato qualora eletto Presidente? Beh, intanto noi abbiamo una visione un po' diversa dal solito, cioè la nostra visione è almeno a dieci anni, non è una visione a cinque anni, perché non si può pensare di mettere al lavoro un gruppo di persone, dandogli un termine così breve. Cinque anni è un termine veramente breve, però noi vogliamo pensare a dieci anni, poi chi verrà eventualmente dopo di noi potrà modificarle. Il nostro obiettivo è quello di partire dall'agenda 20-30 dell'ONU sulla sostenibilità, che io intendo sostenibilità sociale, sostenibilità economica, sostenibilità energetica. I 17 punti in realtà sono 16, il 17esimo è l'insieme coordinato dei 16 precedenti, diventa il nostro obiettivo, per cui pensiamo di mettere in piedi subito un ufficio che verifichi lo stato dell'applicazione di questa agenda 20-30, che è molto importante perché è l'agenda della sostenibilità, quindi io vorrei portare questa Regione a diventare una Regione del mondo, non possiamo vivere in una Regione in cui si trascura tutto quello che avviene intorno a noi, noi non siamo in contatto con quello che avviene nelle altre nazioni, non siamo in contatto con le nuove direttive europee del Green New Deal, cioè del nuovo obiettivo verde della comunità europea, ci sono un sacco di finanziamenti che possono arrivare, quindi la sostenibilità è un termine importante, è una sostenibilità che deve essere nelle persone, ma deve essere nelle aziende, quindi dobbiamo fare questo per dare anche un futuro ai nostri giovani, perché se restiamo fermi dove siamo nel giro di 10 anni, siamo passati, siamo sorpassati da tantissime altre nazioni e da tantissime altre regioni, quindi dobbiamo guardare avanti, mettere questo in moto e avviare tutte quelle tecnologie innovative che ci possono consentire di fare del nuovo sostenibilmente, cioè senza consumare il suolo, senza consumare le risorse che abbiamo in questo momento, ma mettendola a fattore comune in una sorta di società circolare che consenta di riutilizzare i rifiuti, che consenta di utilizzare le fonti rinnovabili il più possibile, che riduca al massimo l'inquinamento, che riduca l'inquinamento portuale, che riduca l'inquinamento dei trasporti. È chiaro che sono temi molto ampi, ma la regione si deve porre degli obiettivi ampi, perché se l'unico obiettivo è fare delle strisce per terra per una pista ciclabile, ne abbiamo alcuni esempi sui quali vorrei stendere un velo pietoso, e questo mi sembra veramente poco, cioè ci vuole un programma, ci vuole una visione e questo credo che sia molto chiaro per chi fa il manager in un'azienda, cioè in un'azienda non si può fare le cose giorno per giorno, bisogna pensare in termini più ampi nel tempo, creare dei diagrammi di ganto, come li vogliamo chiamare, e da questo punto di vista noi abbiamo bisogno di farlo anche in regione, cioè le opere devono essere fatte, le strutture devono essere fatte in maniera sostenibile, ma devono essere previste e devono avere tempi certi di realizzazione, cosa che mi sembra che in questa nazione, in questa regione non sia assolutamente possibile ad oggi. Professor Massardo, la ringrazio per questo incontro, sicuramente utile per comprendere quale sarà la sua visione di Liguria e quindi orientare anche i nostri manager in una scelta consapevole. Grazie. Vi ringrazio lei e l'associazione per avermi invitato, avermi dato la possibilità di dire le cose che penso possono interessare sia i vostri manager che i giovani ai quali auguro un grande futuro.